Barcellona non è uno stato, è una città, quindi non abbiamo una flotta, però se le città avessero flotte o se Barcellona fosse uno stato, noi vorremmo avere una flotta come open arms, per fare ciò che fa open arms. Mi sembra che non ha nessun altro senso avere una flotta se non è per salvare le vite umane. L'Europa si è fondata sull'idea di resistere alla barbarie, alla violenza, alla guerra, è nata proprio per dire mai più, mai più alla guerra, mai più a rinunciare alla pace, alla vita e ai diritti umani. E quindi l'Europa naufraga e l'Europa perde tutto il suo senso se oggi non fa quello che fa open arms. Open arms sta facendo quello che dovrebbero fare gli stati europei.